la paura dei uomini nasce con la nascita e finisce con la morte perciò approvate accettate questa paura medium che sempre si sente insicura a proposito della morte occorrerebbe che più spesso anche persone più giovani trovassero momenti di riflessione serena anche quelli, soprattutto quelli che hanno avuto conoscenza di cosa avviene nel momento della morte o poco prima di tale evento perché più approfondite questo evento ineluttabile e soprattutto veramente importante per voi più amerete la vita. Sembra un paradosso ma vi assicuro che questo contatto non fa altro che rendervi più sensibili alla bellezza della vita, alla curiosità che aumenta per quanto riguarda tutto ciò che circonda la materia ma soprattutto all'amore perché man mano che si avvicina perché voi avrete poi la sensazione di quando si avvicina o meno questo momento voi assumerete sempre più consapevolezza, cosa difficilissima, miei cari, soprattutto per le persone che hanno la fortuna di avanzare con l'età perché sapete bene che a prescindere dalle malattie avanzare con l'età significa incrudalirsi, cristallizzarsi e soprattutto diventare più negativi che positivi grazie a tutti